ciao lettori e lettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video buone veloci e semplici di realizzare le polpette di carne sono sicuramente tra i secondi piatti più amati e portati in tavola preparare le polpette fatte in casa è davvero facilissimo pochissimi ingredienti morbide dentro e croccante fuori sono davvero una specialità ma come preparare le polpette più buone ci deve aggiungere sicuramente questo ingrediente per un sapore inimitabile vediamo insieme la ricetta completa per preparare le nostre polpette cominciamo col mettere la mollica di pane raffermo o del pan carré in ammollo nel latte per circa 30 minuti dopodiché strizziamo il nostro pan carré per bene e lo riponiamo in una ciotola più grande adesso aggiungiamo il macinato misto di carne la patata schiacciata l'uovo il sale il pepe il parmigiano il prezzemolo e il basilico tritati questo punto non ci resta che impastare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo dal quale ricaveremo le nostre polpette riponiamo il composto in un frigo per qualche minuto e adesso formiamo le nostre polpette facciamo riscaldare una padella antiaderente con un filo d'olio quando sarà ben caldo provvediamo a cuocere le nostre polpette ed ecco che le nostre polpette sono pronte per essere portate in tavola sempre se ti va lascia un like iscriviti al nostro canale e per tantissime altre ricette vi siete al nostro sito www.nomaspile.it e Grazie a tutti.